Hai trovato qualcosa di interessante facendo shopping online? Non c'è da meravigliarsi, scelta illimitata, prezzi imbattibili, comodità e semplicità. E in un attimo il carrello è pieno. Molte volte però il pagamento online non è poi così veloce. Devi registrarli, digitare login e com'era il numero di carta di credito. Spesso pagare online risulta complicato e lento. E poi può passare un po' di tempo prima che il commerciante riceva il denaro e la merce possa essere spedita. Ma non con software banking. Uno dei metodi di pagamento online preferiti in Germania. Ma perché pagare con software banking è così comodo e conveniente? Una volta che l'ordine nel carrello occorrono solo i dati d'accesso e la password dispositiva, ovvero semplicemente i tuoi dati abituali di home banking. Così paghi in modo diretto e veloce. Nessun altro conto virtuale è necessario, nessuna registrazione, nessun salvataggio di dati confidenziali d'accesso all'home banking né di password dispositive. Ma è anche sicuro? Certo, software banking è uno dei sistemi di pagamento online più sicuri perché usa gli alti standard di sicurezza dell'home banking. Ma cosa rende software banking un sistema di pagamento così semplice e veloce? Immediatamente dopo l'avvenuta a disposizione dell'ordine di bonifico, il commerciante riceve una conferma della transazione e può così elaborare il tuo ordine. Affidati anche tu a software banking per i tuoi acquisti online. Paga in uno dei 25.000 negozi online che già offrono software banking. Facilmente, anche con il tuo home banking. Software banking, il bonifico online diretto.